La privacy, la vita, i nostri dati. Oggi le corporation sanno tutto di noi. Con le tessere del supermarket sanno cosa compriamo. Con i sistemi di tracciamento sui siti web sanno dove andiamo, cosa visitiamo, cosa guardiamo. Con i GPS che sono installati sulle nostre autovetture e sui nostri telefoni sanno dove andiamo, sanno qualsiasi cosa. I social network e anche i provider di posta gratuiti leggono i contenuti, tutto ciò che noi scriviamo viene analizzato e viene salvato in database e poi riutilizzato. E spesso non è chiaro alle persone che questi dati sono salvati per essere riutilizzati, non è spiegato bene. Per non parlare degli assistenti vocali, Alexa, Google, Cortana, Siri, ogni volta che parliamo a casa con i nostri amici, che raccontiamo qualcosa o che chiediamo al nostro assistente vocale di accendere le luci, lui ci registra e manda le nostre registrazioni in sede perché possano elaborarle per fornirci un servizio migliore, ma anche per salvare i nostri dati, le nostre abitudini, le nostre voglie, i nostri consumi. Le corporation, le grandi società del web, ma anche le grandi società di marketing, di comunicazione e di distribuzione, conoscono le nostre abitudini. Ci mandano le pubblicità mirate. Quando vi collegate a internet, vi è mai capitato su Facebook di ricevere la pubblicità di un albergo che avete cercato il giorno prima da un fornitore come qualsiasi Booking.com, TripAdvisor, eccetera? Capita. Perché? Perché l'intrascambio delle informazioni porta a questo. Porta a che tutti conoscono tutto. Nei database, insieme ai nostri dati e alle nostre abitudini, ci sono anche i nostri dati biometrici. Ci sono le impronte digitali con le quali cediamo il telefonino, il riconoscimento facciale, che è l'estrema razio del controllo e dell'invasione della privacy. Oggi i telefonini si sbloccano riconoscendo il nostro volto. Facebook, Instagram, i social media ci taggano automaticamente, riconoscono la faccia nelle foto. E può capitare, sicuramente capiterà, sta già capitando, che entrando in una stazione, una telecamera ci inquadri, ci riconosca, guardi nel database quelle che sono le nostre abitudini, le nostre necessità, e accenda il monitor che si illumina il nostro passaggio mentre andiamo verso il treno, facendoci vedere la pubblicità di quell'oggetto meraviglioso di cui abbiamo parlato la sera prima con gli amici, mentre Alexa ci stava ascoltando. Beh, questo non è il mondo che voglio. Questo non è il mondo che noi vogliamo. Io sono Stefania Calcagno, mi presento per il Partito Pirata alle prossime edizioni europee del 26 maggio. Il Partito Pirata nasce nel 2006 e in pochissimi anni ha conquistato tante nazioni in Europa. Dalla Germania alla Svezia, dalla Slovacchia all'Islanda. E oggi ci presentiamo in Italia condividendo lo stesso programma con tutti i partiti pirata d'Europa. 13 nazioni, un solo programma. Noi lottiamo da sempre contro la sorveglianza e contro l'invasione della privacy. E ora più che mai, in quanto l'Unione Europea vuole varare un database anche biometrico di tutti i suoi cittadini, ovvero che contiene i dati delle nostre impronte digitali, dei nostri dati biometrici per il riconoscimento facciale, occorrono pirati al Parlamento Europeo che vigilano, che impediscano il proliferare di queste abitudini, che si battano per la privacy delle persone, che è il vero tesoro che abbiamo, la nostra privacy, la nostra vita. Quindi il 26 maggio, pensate pirata.